bene come abbiamo appena visto quindi la spiegazione della dominance che abbiamo fatto adesso per questo è sempre importante raga connettersi alle live essere attivi su tutto telegram instagram qualsiasi cosa che viene impostato perché ci sono tante persone che possono seguirlo ma perché non sono attive si perdono la formazione mi spiace ovviamente le prossime volte mi raccomando state più attenti ora andiamo andiamo a vedere ah intanto questo qua siamo quasi al primo take profit buono però non è questo il focus adesso questo non è il focus andiamo a vedere su usd franco svizzero tipi ok grande andrea infatti dopo raga vi parlerò anche di quello che sta succedendo nel gruppo privato perché sta diventando una specie di sala segnali devastante infatti diventa sempre più facile analizzare il mercato allora andiamo a pulire tutto qui dentro così andiamo a vedere insieme come come funziona qua dentro a piccola precisazione potete andare a cercare l'indicatore dove volete ma tanto non lo trovate ok a meno che non ci sia il permesso da parte mia che venga dato quindi potete anche star lì io so che tantissimi avranno già cercato ma qual è dove quando perché no furbetti no non si può quindi finché non vi do il permesso io non si può toccare niente quindi andiamo a vedere adesso attentamente questo è plottato è settato su 5 minuti e 15 minuti ok quindi se andiamo su 5 minuti vedete pallini e se andiamo su 15 minuti anche qua lo stesso vedete pallini ora la cosa migliore da andare a fare quello che io vado a contestualizzare maggiormente che si è presentato un con più facilità questa cosa qui io più che altro vi consiglio dopo dopo ti mando ti mando tutto per paolo rimando di nuovo sul gruppo i vari link perché si è giunta altra gente se andiamo a vedere qua dentro ora andiamo a capire cosa succede come abbiamo visto appena visto adesso nella spiegazione nella lezione che abbiamo fatto partiamo anche ad esempio da qui vedete che ci sono tanti pallini pallini rossi vanno indicare gli sbilanciamenti rialzisti mentre i pallini viola fucsia vanno indicare gli sbilanciamenti al ribasso se andiamo a vedere qua dentro questa candela istituzionale perché c'è questa di candelina che ti va a segnare lo sbilanciamento di questa liquidità ma abbiamo anche questa e siamo d'accordo che per chi opera come lavoro io e sa bene come lavoro questo era un ottimo sbilanciamento con candela buy che a noi piace da manuale quindi qua dentro noi andandocelo a segnare cosa succede che poi il mercato da qui da dov'è che viene viene anche da una direzionalità rialzista perché andando a vedere anche qui attentamente con questa candelina qui se guardiamo attentamente qua vedete che ci va a segnare lo sbilanciamento e la partenza ribassista e da qui poi cosa succede che il mercato una volta che è andato a creare il minimo più basso qua è stato superato quindi se noi ne abbiamo guardato attentamente da qua abbiamo avuto il cambio della dominance e dopo aver avuto il cambio della dominance cosa succede che qui dentro si può avere un riaccumulo come spiegate anche su youtube gratis riaccumulo riaccumulo seguo la direzionalità del mercato senza andare a complicare troppo le varie cose quindi qua dentro cosa succede che la nostra zona di candela istituzionale che va a sbilanciare l'equidità ce l'ha segnata e andando a rialzo qua dentro vedete che abbiamo la rottura da parte del mercato della dominance quindi c'è una conferma ulteriore che la dominance è rialzista andando a vedere poi anche qui notate che abbiamo questa candelina istituzionale abbiamo anche quest'altra candelina istituzionale delle due qua dentro vedete che abbiamo tutta questa liquidità dinamica sbilanciata e questo qua ce l'ha andato a segnare quindi uno può dire ma quale prendo questo o questo di candela istituzionale ovviamente come vado a spiegare spesso quella che preferisco di più è la più a sinistra ok e tra le due qual è quella più a sinistra qual è che ci piace di più la prima o la seconda ovviamente in questo caso abbiamo la seconda scusa la prima che abbiamo segnato che il l'indicatore ci va a segnare quindi qua dentro avendo questa cosa qua se noi ce ne andiamo a segnare qua cosa succede che oltre avere poi tutta la contestualizzazione perché in primis mi raccomando diamo sempre dobbiamo avere sempre una una chiarezza di dove ci troviamo dobbiamo capire effettivamente se il mercato è long o short e se possiamo permetterci di andare a rialzo o a ribasso a seconda della direzionalità questo è molto importante raga senza contestualizzazione non andate da nessuna parte tutti i concetti funzionano tutte le cose che sia i cimoku solo due medie mobili che si incrociano che sia una trend che viene rotto tutto funziona però quello che fa veramente la differenza è la contestualizzazione che voi ci andate ad applicare all'interno e quindi andando a vedere qui dentro notiamo che abbiamo liquidità ultima dominance rottura da parte del mercato e qua abbiamo visto il ritorno sulla nostra zona di candela istituzionale andando a vedere anche qui attentamente se uno segue per bene la narrativa vedete che qui tu non devi far neanche troppa fatica per andare a trovare quella candelina perché prima io stavo lì a grafico così qual è quella candela che mi sbilancia l'altra liquidità e devo sforzarmi veramente tanto adesso tutto quel lavoro lì non devo più farlo perché perché vedo sbilanciamento basta finito così ovviamente è molto meglio e andando a vedere anche qui notiamo come il mercato prima di andare a prendere la nostra zona di candela istituzionale che va a sbilanciare la liquidità cos'è che ci fa qui dentro ci va a fare formazione di liquidità dinamica sbilanciata da questa qua e l'indicatore ce lo segna come si deve e qua di nuovo rottura e riallineamento ulteriore della dominance per poi andare a testare di nuovo cosa qui ritorniamo sulla nostra candelina istituzionale ok ovviamente qua c'è da contestualizzare sempre la zona e le varie candele perché non segna anche quella successiva commissione perché l'indicatore va a segnare le candele che sono quelle più vicine che quelle che vanno crearti di solito liquidità dinamica più che quella statica ok quindi qua dentro possiamo vedere questa qua come liquidità dinamica perché l'ho fatto impostare in modo che il mercato quando vede questa cosa qui ad esempio e va a segnare lo sbilanciamento ovviamente va a segnare lo sbilanciamento della liquidità in questo modo ok per la maggior parte delle volte ed è quello che si ripercuote più volte che si ripete più volte per questo ok quindi andando a vedere anche qui si può andare a segnare questa come candele istituzionale però ovviamente anche voi ragazzi sapete bene che anche questa per noi è da contestualizzare come liquidità la sbilanciamento della liquidità 430 allora aspetta 420 dici questa nicolas si anche questa qua noi la possiamo andare a contestualizzare assolutamente poi ovvio raga qua noi possiamo andare a applicare i concetti come ci pare piace dobbiamo andare a contestualizzare tutte le varie cose però andando a vedere anche qui semplicemente io vi consiglio come vi ho spiegato appena adesso all'inizio un pochino un pochino per per quanto riguarda questa cosa qua io ragazzi vi consiglio provate a testare soltanto con i bracket test col 75 di fibonacci provate questo non dico altro ok bracket test bracket test cioè semplicemente voi vedete che vi va a segnare la dominance quindi va a fare questo qua sai che si è ritornato long sai che devi ritracciare fibonacci e prova a fare una roba del genere dopo ovviamente si va a mettere dentro la candela istituzionale il pattern e tutte le varie cose ma semplicemente andando a semplificare la strategia a livelli proprio più semplici di così non si può e io vi invito a provare a testare e così vi renderete conto anche di quanto fa la differenza quindi andando a vedere anche qui notate che abbiamo avuto la rottura test anche qui candela istituzionale che va a sbilanciare questa liquidità possiamo vedere anche questa come candelina che va a sbilanciare questa liquidità si va a contestualizzare al medio delle proprie capacità ok quindi anche qui poi cosa succede anche questa qua vedete che ce lo va a segnare che va a sbilanciare la liquidità questa per noi possiamo tenere segnate anche per il futuro queste candele perché poi il mercato cos'è che va a fare abbiamo più alta probabilità quante volte abbiamo visto che le candele istituzionali che ci vanno a sbilanciare la liquidità ci danno reazione tantissime volte ovvio che serve sempre il filo della contestualizzazione e andando a vedere anche quello che è successo oggi per esempio allora se andiamo a vedere anche qui aspetta che tiriamo via un po' di robe guardate attentamente quello che è successo oggi abbiamo avuto formazione di liquidità ok abbiamo avuto formazione di liquidità e da parte del allora aspetta un attimo che faccio una roba ok dov'è che era il coso ok ok perfetto e vedendo qua abbiamo formazione di liquidità sbilanciamento con candela e l'indicatore ce lo va a segnare molto tranquillamente ora anche qui dentro dopo che il mercato è continuato a scendere cioè ci rendiamo conto di quanto stavamo andando giù e anche qui dentro una cosa che magari una persona poteva andare a fare era magari vedere una rottura di strutture e cercare un possibile long ad esempio uno poteva vedere questa cosa qui liquidità sbilanciata rottura rialzo e cercava il long e magari veniva buttato fuori quindi la maggior parte delle volte viene viene fatta una cosa di questo tipo però ricordiamoci che qua abbiamo avuto mega distribuzione da parte del mercato ridistribuzione e solo dopo dovrei smettere di postare quei contenuti su youtube perché sono troppo efficaci dovrei smettere veramente mi sa raga che non posto più niente su youtube perché spiego roba che dopo se andate ad applicare fate 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 troppi casini quindi a parte di scherzi andando a vedere qui dentro cosa succede che il mercato ci va a sbilanciare la liquidità va al ribasso e la qua con le news di oggi hanno rotto con forza e avendo la rottura di questo qua già avevamo una super conferma da parte del mercato guardiamola anche da un punto di vista di 15 minuti anche qui vedete che a 15 minuti c'è molto meno rumore a mercato molto 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 meno rumore vedete che anche qui liquidità sbilanciata e anche qui semplicemente andando a prenderti dopo che ti ho fatto rottura della dominance a 15 minuti della dominance a 5 minuti un bracket test sull'emissione e poi andare abbastanza e stare abbastanza tranquillo perché adesso cosa succede? che chi sa cos'è che ci potrebbe mettere in mezzo adesso? per i più attenti dai scrivetemi in chat voi lo sapete già voi lo sapete già esatto uno due e adesso possiamo iniziare a intracciare e così si possono prendere le inversioni ok? è così ed è più efficace muoversi è illegale sta roba eh lo so lo so lo so che è illegale raga ed è semplicissimo poi eh se ci pensate a livello pratico quanto si semplifica secondo voi c'è proprio la visione tantissimo ok? quindi avendo una cosa di questo tipo cosa succede? che noi ovviamente dobbiamo imparare a contestualizzare mettere insieme tutti i vari concetti però dopo le cose iniziano a schiarirsi sempre di più e per tutte le persone che avevano sempre facevano fatica a stare a grafico ovviamente cosa succede? che qua dentro i giochi iniziano a cambiare le cose iniziano a cambiare tantissimo infatti qua molto facili è che adesso andiamo a rialzo poi ci mettiamo dentro anche la stagionalità che si allinea con sta roba qui ciao ok? quindi cosa succede? che se andiamo a vedere anche quello che ad esempio è successo ieri che anche ieri è successa la stessa identica cosa che andiamo a vedere anche qui dentro in questo tutto in questo mix aspetta tiriamo via tutti i vari cosi che adesso non servono più allora se andiamo a vedere anche ad esempio qua quello che è successo stando soltanto a quindi a 5 minuti lo succede che il prezzo qua stavamo andando a rialzo dopo una forte direzionalità rialzista cosa succede? comunque abbiamo fatto le rotture di questi minimi qua il mercato è iniziato a dare segni di cedimento ma da cos'è che si capisce? in primis qua noi capiamo che il mercato ci ha creato un'ultima dominance anche vedendo queste zone qui vedete questa candelina qua che sbilancia e ce lo va a segnare bene qui dentro cosa succede? che il mercato vediamo che ci fa il cambio della dominance e anche qui dentro questa candela va a segnare lo sbilanciamento di tutte queste precedenti e quindi andando a vedere anche qui attentamente cosa succede che anche questa non so perché non ha segnata questa comunque possiamo prendere questo come punto di zona di riferimento che il mercato qui è andato a rompere ok? e ricordiamoci l'importanza del vedere la candela sell che sbilancia la liquidità ribassista succede che poi qui il mercato se ne va a ribasso questa va a segnare la liquidità quindi uno può dire guarda qua c'è lo sbilanciamento di questa zona qui se ne va a ribasso il mercato in un primo momento ci dà una piccola reazione ma dopo va a rompere bene andando a rompere ovviamente uno può dire adesso siamo ritornati long e ti do ragione ma andando a vedere attentamente quello che è successo anche qui vedete che abbiamo liquidità doppio minimo e qua direttamente l'indicatore ti va a segnare questa come la candela giusta di ultima dominance che ti va a sbilanciare cose che magari normalmente il tuo grafico non noteresti perché rimani soltanto fisso di un'idea e qui vai a togliere anche il tuo il tuo bias cioè molto spesso noi quando ci cosa succede ci impuntiamo solo su un bias vogliamo soltanto vedere il long o soltanto vedere lo short ma avere un qualcosa che va in disaccordo con questa cosa qua ti fa un attimo ripensare e quel ripensare ovviamente ti fa dire eh però sai adesso forse sto sbagliando adesso metto in dubbio il mio possibile setup e andando a vedere questo come punto di riferimento e vedendo la rottura cosa succede che qui poi tu vai a vedere che c'è un rialineamento short con la dominance a 5 minuti e dopo vedi che qua ad esempio vai a segnarti la liquidità sbilanciata candela istituzionale qua dentro c'era anche una piccola candela di emissione con altre cosette dentro ok e qua si poteva vendere tranquillamente a che ora 1.40 anche un'ora che ci sta e dopo qua si vede quello che è successo se poi qua andiamo a mettere anche insieme le altre cose gli altri concetti e c'era liquidità qua sotto quindi raga qua anche se le operazioni che si vanno a prendere sono molto meno comunque il grado di efficacia sarà ancora più elevato e raga più semplice di così ditemi si può fare più semplice di così io non credo io non credo fatemi sapere anche voi cioè se ovviamente avete un'idea o qualcosa cioè io sono sono aperto a capire ok però più semplice di così non credo che si possa fare ok quindi questo è un po' come funziona ok ci siete? mi date mi date un check se è chiaro se è stato compreso se ovviamente vi può vi può sembrare un qualcosa di utile da implementare che mi interessa anche sapere questa cosa qua se no me lo tengo per me e basta finita lì mi si chiama l'indicatore si solo pallini fucse e rossi stasera si ora diciamo utile per la stagione così no è una hit questo indicatore ah si per chi per chi opera come lavoro io che tra l'altro adesso sul gruppo che è partito ci sono i ragazzi che stanno mandando setup su setup su setup cioè è una figata il gruppo privato sta diventando stra straforte infatti sono super contento di questa cosa avremo costina ogni volta a fianco quando ci mettiamo grafico esatto ci avete tipo me che dice lì c'è l'ultimo sbilanciamento lì devi stare attento ok e quindi anche lì per il gruppo io sono stracontento perché si sta creando una community forte che tradano tutti col pattern ok tutti stanno partendo con il pattern e tra l'altro da da ottobre arriverà il sito a cui sto facendo sviluppare per bene e faremo anche una roba del genere quello sì assolutamente e con il sito poi partirà anche tutto il sistema ok già domani si fa con la prima formazione la prima lezione per quelli che sono dentro all'interno del gruppo privato e poi anche sabato ci sarà anche altra formazione quindi per i ragazzi che so che tanti sono dentro la chiamata qui preparatevi già tutti i setup tutte le varie cose che andremo a lavorare per bene e sì mi sa che fra un po' quel gruppo lì diventerà proprio una sala segnali aspetta chi è che c'è qua in chiamata dentro il gruppo che vedo vabbè c'è c'è Antonio Antonio che vorrò un macello voglio voglio setup su setup perché adesso la cosa bella sapete la cosa bella di quel gruppo lì che tutti tradiamo con la stessa strategia che io ho spiegato che raga cioè io non devo neanche stare a grafico i ragazzi mandano il setup io guardo con la mia esperienza e dico ok questo mi piace basta fine entro anche c'era per dirvi andiamo a vedere una cosa insieme dai euro andiamo a vedere euro dollaro quello che è successo venerdì scorso allora lunedì qua dentro eccolo qua setup facilissimo ok setup facilissimo ma secondo voi io sono stato a grafico no non ero a grafico ok l'aveva chiamato Filippo grazie Filippo grazie ancora e fa raga cosa ne pensate di euro dollaro io appena l'ho visto ho detto bene questo è mio perché perché se andiamo a mettere insieme tutti i concetti qua abbiamo avuto ah tra l'altro anche questa anche questa l'abbiamo vista nel gruppo insieme le varie zone quindi anche le news la sparata lì cosa impossibile da prendere no assolutamente no perché anche qua tra l'altro per per farvi capire anche un pochino ancora di più per farvi rendere conto qual'indicatore cos'è che andava a segnare candela di sbilanciamento dell'ultima dominance segnata per bene prima e questa qua va a sbilanciare quest'altra liquidità dopo il cambio dominance siamo long ok quindi se adesso io so che sono long e cerco l'opportunità di compera cosa succede posso andare a mettere insieme vari concetti che sia candela istituzionale che sia in missione che sia le altre cose che poi si andranno a spiegare sempre di più nel dettaglio dite che qui il mercato preso la zona e dopo fino a dov'è che ci spinge fino ad altra zona di liquidità e questo qua raga l'abbiamo mandato sul gruppo diventerà una sala segnali veramente devastante quel gruppo lì tutti vorranno farne parte ok tutti ne vorranno far parte perché il mio obiettivo adesso è formare i ragazzi al massimo in modo che io non dovrò più neanche star lì a sbattermi troppo a mercato e tutti saremo allineati con pochi pair così da avere un vantaggio statistico gigantesco tutti insieme meglio di così cosa vuoi adesso ci può andare a lavorare veramente tanto su vari su vari aspetti e tornando al discorso di qua c'era Filippo che mi andasse il setup dico ok va bene c'era la zona di liquidità che questo qua era tutto erano tutti massimi uguali ok che dopo hanno cambiato i dati qua c'era un'ultima dominance formata dal mercato non l'ho voluto fare su M1 per ora perché può portare troppa confusione ok e quindi andando a far troppa confusione dopo non è una cosa a volte è meglio togliere quindi se si va a togliere un minuto ti basta semplicemente raga 5 minuti 15 minuti vi basta ok semplicemente quello quindi esatto euro dollar di usd e gbp usd si guarda in 50 persone 100 occhi su un pair tanta roba no quindi qua dentro cos'era successo che c'era la zona ho detto ah quando vedo una roba del genere che siamo anche in continuazione sale a me brillano gli occhi quindi cosa faccio vado a segnarmi la mia zona di interesse vedo che comunque qua sotto mi hanno lasciato la mia zona di liquidità seguo la strategia seguo le varie cose basta e questo qua era venerdì sera ok tu ti vai segnare le cose il ragazzo ti manda le dalla zona tu vai ultimare tutto secondo i concetti le tue conferme basta e si vanno a a semplificare le cose no questo è il nostro obiettivo cioè non penso che noi stiamo a grafico perché vogliamo romperci e sbatterci tantissimo vogliamo semplificare il più possibile basta e più semplice così raga non si può fare ve lo posso ve lo assicuro più semplice di così non si può fare ok quindi per quanto riguarda il discorso della community per accennarvi anche adesso da settimana prossima partiranno anche la possibilità di pronotarsi per il mese di ottobre ok perché adesso non prendo più nessuno già i ragazzi mi hanno chiesto però non prendo nessuno fino al mese di ottobre e da ottobre si andrà veramente pesanti eh già adesso stiamo andando pesanti ma da ottobre sarà ancora meglio eh non ci sono vari domini se li bastisti che date sotto che farebbero invalidare setup allora qua dentro se andiamo a vedere cos'è importante uno può dire ok c'ho la liquidità e c'ho questa zona qui che può essere considerata come zona di di dominance però chi è che ti sbilancia a questo livello qui è una candela sell rispetto alla strategia no siamo di direzionalità come super mega iper ribassista se ho dei possibili cambi dominance a time frame un minuto a me non frega niente devo seguire la direzionalità macro perché quante volte si va contro queste cose qua ed è un vizietto che vi corrego a tutti ok è un brutto vizio che a furia di andare a fare correzione stop loss market review e formazione ve lo caverò a tutti quelli che sono entro al gruppo ok questa è la cosa quindi ehm per quanto riguarda il discorso della sì la community per tutti quelli che mi stavano chiedendo adesso entro il 24 di 24 di settembre c'è la possibilità di riposizionarsi e prendere il posto per tutto il mese di ottobre ok così si va mese per mese per andare a semplificare di più anche la gestione da parte mia e lì sì raga si farà un macello veramente si farà un fottuto macello sono sicuro perché già adesso ci sta andando forte tanto forte anche prima su DUSD ad esempio allora che anche Andrea ha preso ad esempio il take profit qua cos'è che c'era c'era zona di liquidità formata dal mercato c'era la candelina istituzionale vista un minuto qua dentro guardando più attentamente cos'era successo che il mercato già da qui cos'è che aveva formato aveva formato dominos va a rialzo rompe ma non riesce a testare bene si attiva si attiva il setup cosa succede che qui dopo che ha creato il minimo lui aveva chiesto ma raga ma qual è la zona che mi converrebbe andare a prendere perché lui aveva varie zone di target gli ho detto prendi l'ultimo minimo prendi la zona che ti dà più vantaggio e in questo caso è l'ultimo minimo e infatti da qui non c'è bisogno di andare a forzare chissà quelle cose sei in dubbio prendi l'ultimo minimo ok e poi quando tutti si esatto a pennello proprio e poi quando si è tutti allineati e si lavora tutti da squadra ovviamente diventa tutto molto molto più semplice quindi per quanto riguarda quindi noi dentro possiamo arrivare sì 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 per quelli che sono già dentro il gruppo c'è la possibilità di rinnovarlo e insomma entro il 24 adesso si sta raccogliendo tutti gli altri ragazzi che mi stanno chiedendo e e poi basta per il discorso invece dell'indicatore adesso per quelli che si sono registrati che avete messo anche il nome di di trading view adesso lo andrò a fare a gestire il ragazzo che mi sta aiutando tutto il discorso della della cosa dell'indicatore così voi ci avete anche il modo per andare che caricherò su youtube questa chiamata qua così almeno voi potete riguardarvi per vedere anche il funzionamento e poi uno può dire adesso cioè gratis prezzi altre cose eh niente gratis raga niente gratis però per una settimana ve lo lascio a disposizione gratis ok così voi potete andarlo a a sfruttare e andare a a piazzarlo come si deve praticamente l'indicatore com'è che funziona va va licenze ok quindi un mese l'indicatore viene messo a 20 euro ok su trading view poi c'è tre mesi 50 invece per avere 12 mesi quindi un anno intero 200 euro ok quindi si è a disposizione l'indicatore per sfruttarlo e per andare a testare adesso si è a disposizione una settimana di di tempo quindi chi ha messo si è registrato ovviamente gli verrà mandato l'invito per attivarlo ok e per gli altri per chiedere a community gratis no niente gratis raga assolutamente no perché qua ci sono anni 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 di lavoro e ovviamente potete capire benissimo quanto uno si può sbattere e infatti già sto dando tantissimo valore gratuito su youtube tantissimo e quindi adesso è così ok così anche voi sapete neanche una red buonino maggio dai chi per chi ci si trova a milano il 23 che vengo a fare un salto lì forse una red ve la posso offrire ok e quindi basta raga questo è quindi adesso sapete come funziona l'indicatore come poterlo andare a sfruttare come lavora anche per per il discorso della community per quelli che mi stavano chiedendo quindi news quello adesso ci sto lavorando quello che quello è anche un'altra cosa quello si è anche un'altra cosa che adesso ci sta lavorando per chi viene a teneriffe per chi viene a teneriffe poi Thomas vedrai che ci saranno un po' di cose interessanti molto 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 interessanti niente ragazzi allora adesso per la lista vi manderò tutte le cose per chi guarderà questa chiamata qua ed è interessato comunque all'indicatore mi scriva in privato su Instagram indicatore ok cos'è meno li vado a dall'info lo posso andare a abilitare nei prossimi mesi spiegherai nuovi concetti di community sull'analisi no no si andrà giù pesanti ve lo posso dire ve lo dico si andrà molto pesanti quindi si partirà a fare un percorso ancora più dettagliato ancora più avanzato per avere ancora più comprensione mercato per la settimana di prova per quelli che hanno messo si sono registrati nei re-mail verrà 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 mandato un invito tramite trading view infatti qua poi state attenti che per coloro che si sono fatti qua dentro ti verrà abilitata ti verrà data una notifica ok arriverà la notifica dove ti potrai abilitare e ce l'avrai a disposizione per una settimana di trading quindi per 5 giorni operativi ok chi ha dato già il nome di trading view invece ci arriva la mail esatto esatto vi arriva la richiesta tramite mail o anche direttamente tramite trading view qua guardate la campanellina ok ci vorrà un po' prima di mandare la richiesta a tutti perché comunque siete più di boh mi sono arrivate più di 80 richieste e poi avrete tutto a disposizione qua intanto io posso anche interrompere la condivisione che tanto poi verrà caricato tutto per la prima di mandare che la condivisione